Hanno interrotto la raccolta dei rifiuti alle 11, poi si sono dati appuntamento nell'area antistante del centro comunale di raccolta di pissi a Capodorlando. Gli operai impegnati nella raccolta dei rifiuti per conto del comune orlandino, rappresentanti dei loro colleghi di tutto l'Aro, che comprende anche Ficarra, Torrenova, Caprileone e San Salvatore di Fitalia, hanno deciso che senza la garanzia di stipendi puntuali non si può più andare avanti. Una situazione molto difficile che varia da comune a comune, ma che provoca le stesse gravissime difficoltà a centinaia di famiglie. La situazione è molto tragica perché ormai da quando si è insediato l'Aro, hanno fatto quest'Aro in tutti questi comuni, non è mai stato trovato un punto di incontro fra la ditta e il comune. Siamo sempre in arredrato di mesi, addirittura noi avanziamo da 6 a circa 12 mesi di mensilità. Dipende da comune a comune questo? Dipende da comune a comune, ci sono comuni che sono anche indietro a livello di fatturazione da pagare alla ditta, quindi anche la ditta avanza nella ditta da molti comuni, però noi non possiamo stare dietro ai comuni a andare a chiedere soldi ai comuni. Noi lavoriamo presso una ditta privata e chiediamo alla ditta che giustamente ci retribuisca le nostre mensilità. Nel frattempo il responsabile provinciale del sindacato è stato incontrato dal comune di Capodorlando, dal sindaco Franco Ingrillì del primo cittadino, ha ottenuto per il momento un impegno per tamponare la situazione. Poi in settimana si cercherà di trovare soluzioni più durature. La nostra controparte è la ditta, non il sindaco, ma comunque abbiamo incontrato il sindaco perché nella qualità di committente ha anche delle responsabilità. E da questo è venuto fuori, da questo confronto, che ci siamo aggiornati a mercoledì e giovedì di questa settimana, presso la sede del comune, per trovare delle soluzioni risolutive del problema inerente agli stipendi arretrati che vantano i lavoratori. Una novità è che già a giorni avrete un primo stipendio e che prima di Pasqua si pensa di darvi già un secondo stipendio. Quindi non risolvi il problema di tutti gli stipendi, ma quantomeno significa che si vuole cambiare strada. Questa è una cosa molto importante perché questo che è un problema un po' di tutti i comuni della provincia di Messina, cioè il ritardato pagamento degli stipendi a seguito del fatto che i comuni dichiarano di non avere somme, è un problema che o si affronta definitivamente e per tutta la provincia, non solo per il comune di Capodorlando, o per l'aro interessato al comune di Capodorlando, e quindi questo significa che anche il signor prefetto e l'ispettorato del lavoro devono darci una mano affinché si arrivi a una soluzione definitiva di tutto questo problema. Io non so la ditta cosa avanza dal comune, anche perché non sono cose che interessano a noi. A noi interessa che la ditta paghi i lavoratori, poi se il comune non paga la ditta, la ditta non paga il comune. Se c'è questa insolvenza la ditta è un'unica soluzione, lasciare il servizio.